Buona! Buona giornata! 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 dietro le quinte sono tanti anni che mi capita di fare spettacolo ma non ti sento così non l'ho mai visto quindi voglio ringraziare tutti i ragazzi dietro dietro dove siete? chi siete dietro? mi garantisco che il massimo ancora già in con il suo Paolo, Giorgia Mattia, Francesca, Lorena e Alessia ancora un po' di già in con il suo Paolo e il rock grazie a tutti 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 Con vergogno, con leggenda, facendo musica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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